Arrivarono le elezioni, naturalmente anticipate. Fantozzi, che sentiva molto col suo diritto, dovere di cittadino, partecipò come sempre nell'incertezza, nell'indecisione e nella paura di sbagliare un'altra volta. Si mise allora a leggere di tutto, dall'estrema destra all'estrema sinistra. Signore, le manca solo il commercio sardo. Me lo dì. È 50.000. Poi si dette malato e si chiusa in casa, nella stanza della televisione. Vieni, che c'è. Ti va la merenda? No, niente, niente, non vedi che sto guardando? Ma sono due giorni che non mangi. Vina, stami a sentire, se io sbaglio il voto, questa volta va a finire che non mangiamo e non mangiate per una decina d'anni. Quindi, fuori, fuori, smammare, via! E fammi un caffè molto forte. Dalla mattina, a notte fonda, non perse una tribuna politica, né un comizio elettorale, né un dibattito a quattro, né un ping pong, né una tavola rotonda. Su tutti i canali esistenti, pubblici e privati, e su tutti e tre i televisori di casa. Sballottato da tutte quelle informazioni e campane discordanti, andò presto nel pallone più completo e cominciò a soffrire di allucinazioni audiovisive. Digiuna con me, compagno Fantozzi, sarà una straordinaria dimostrazione per questi truffaldini partitocratici. Questa è una grande idea, il leader e l'ultimo cretino della base, cioè tu che fanno insieme lo sciopero della pane. Io che mi bevo solo dei cappuccini e tu che me li paghi. Ma sa, lei è un professionista, è abituata a digiunare. Io Fantozzi, come si può vedere, non sono storicamente portato al digiuno. È un po' si vede. Ma sono per una volta d'accordo con l'onorevole Pannella che è lei storicamente condannato a digiunare. Caro Fantozzi, limitando i consumi. Ma ancora di più? Certo, vado a farsi praticare altri 4 o 5 buchi sulla cintura mentre io vado nella mia bella villa sopra Firenze e mi faccio un bel cotonettone panato con patate fritte. Io chiedo il suo consenso, caro Fantozzi, al partito di maggioranza sempre più relativa. Soprattutto nell'interesse della sua salute psichica. Certo. Lei, dopo quasi 40 anni di uso e abuso continuo, democratico, cristiano, è diventato un DC dipendente. Certo. Che fa senza il beato senatore Fampani? Benefico ogni uomo del suo focolare? E senza il santissimo rumor Mariano? Buongiorno. E senza l'onorevole Rognoni, per tanti anni ministro dell'interiora? Ah, per questo Rognoni... Decida di sì, Fantozzi. O avrà una crisi di astinenza? Probabilmente le tale. Le tale? Non gli dare retta, compagno Fantozzi. Oh, salve. Tu sei lo sfruttato classico, sei il prototipo degli sfruttati. Ebbene, devi cambiare. Ma, pettinatura... Ti devi rinnovare, devi cambiare sfruttatura. Allora... Li ha provati tutti, ti chiedo di provare anche noi. Ti assicuro che non siamo secondi a nessuno. Cioè, anche voi. Vede, ragioniere Fantozzi, se lei rafforza il mio partito, io le prometto di risolvere il problema della pensione. Grazie, molto bene. Ma cosa ringrazia? Io parlo della mia pensione, mica della sua. Ho già una certa età e c'ho una madre a carico. Ma, scusi, la sua mamma vuole che me la corri io? Eh, no, 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 Fantozzi. Eh, no, sì, 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 invece... La mamma non si tocca. Mi guardi negli occhi. No, non mi guardi così. Se lei cortesemente mi farà pervenire il suo indirizzo, io manderò a lei alcuni camerati a farle gentile omaggio di una bella confezione di olio di ricino per chiarirle le idee sul nostro programma elettorale. Non si può rinviare un... Cosa penso di Fantozzi? Le parlerò come donna e le dirò subito che lo trovo ripugnante come un rospo. Ah, anche lei? Noi temiamo molto questo autunno e questo inverno. Che cosa c'è da fare, caro Fantozzi? Se lo chiedo a me... Io, con lama e i carniti, abbiamo deciso di lottare allo stremo per farci invitare tutti e tre sul bellissimo yacht di Agnelli per fare una crociera nel Mediterraneo o alle Seychelles o alle Bermude. Ma io non vengo mai. Cosa ti devo dire, compagno Fantozzi? Il problema grave è quello della stabilità. Se tu voti per me, io mi stabilisco stabilmente nello stabile di Palazzo Chigi e tenterei di non smuovermi più neanche con le cannonate. Ma mi scusi, Duce. No, onorevole, ma io da questa sua stabilità che vantaggi ne avrei? Tutti i partiti, carissimo Fantozzi, continuano a prometterle miglioramenti economici che non ci sono mai stati e non ci saranno mai, ecco. Mai. Noi non potremo deluderla, carissimo, perché questa volta le promettiamo, anzi le assicuriamo, un peggioramento quinquennale e progressivo. Ma mi scusi, Emine, Sire, ma anche l'altra volta ma mi aveva promesso e poi... Le mie, come lei sa, sono sempre promesse di marinai. Ah, è vero, è che io ci cado sempre. Bene. Mi scusi, mi sento un po' di radio. Camerata Fantozzi! Le potenze demoflutocratiche con le loro inique sanzioni Cavaliere? Tentano di ostacolare gli appalini dell'impero. Decidi di ci, Fantozzi, eh? Vota per me, Fantozzi. Camerata Fantozzi! Scuto grusato, Fantozzi. Vota per me, Fantozzi. Piano, piano, tra tante contraddizioni e campane discordanti, Fantozzi maturò una sua personalissima decisione politica. Buongiorno. Buongiorno. Ecco qua, certificati elettorali. Oh, mi scusi. Scusi, dammi la patente. Ecco qua. La patente. Ecco. Fantozzi. Fantozzi. Cabina 1. Cabina numero 1. Cabina 2. Grazie. La 2. Cabina 3. Io alla 1. Grazie. Vai, 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 io vado, vado alla 1. Vado, vado alla 1. Vado alla 1. prego. Venga. Grazie. Grazie. Accomodatevi. Ha votato Fantozzi. Ma... permette. Ricordo. Occupato. Ma cosa sta facendo? Sto votando. Ah, bene.